Buongiorno a tutti i temi di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati, calcio mercato, nuove e nuovo per la tre quarti Rosso Nera, parliamo di Mikkel Damsgaard, giocatore della danese, giocatore in forza alla Sampdoria, giocatore classe 2000, nato il 3 luglio del 2000, arrivato la scorsa stagione alla Sampdoria appunto dal Norgelland per una cifra inferiore ai 7 milioni di euro. E' un centrocampista, è un tuttocampista perché ricopre diversi ruoli, molto bene, un giocatore di grande qualità, gioca principalmente sull'esterno offensivo ma gioca e ha dimostrato avere anche delle qualità importanti per quanto riguarda il ruolo di tre quartista centrale. Un classe 2000, un ragazzo veramente molto giovane ma da grande talento che ha tirato grande attenzione da parte dei club europei e anche del Milan che avrebbe chiesto informazioni alla Sampdoria per il calciatore. Ricordiamo appunto che la Sampdoria lo strappò la scorsa stagione dal Norgelland grazie a una rette scouting importante e attualmente valuta il giocatore tra i 15-18 milioni di euro. Un giocatore offensivo, un giocatore veloce, come abbiamo detto prima è un giocatore molto utile quindi può ricoprire tutti i tre ruoli da tre quarti dietro alla punta. E' un giocatore che è molto abile nel controllo di palla e soprattutto nel primo tocco. E' un giocatore che riesce con le sue giocate a velocizzare il gioco. E' un giocatore molto forte nel dribbling, è molto abile nel liberarsi dalla marcatura degli avversari e soprattutto è un giocatore che ha dimostrato questa stagione in Serie A di avere grandissima personalità e soprattutto per la capacità di fornire assist ai compagni. Quest'anno essendo la prima stagione in Serie A ha sorpreso tutti, ha diputato ben 35 presenze, ha andato a segno con due reti e fornendo quattro assist. Quindi numeri niente male per un giocatore del 2000. Il Milan è interessato a questo calciatore, un calciatore che appunto è legato alla Sampdoria con un contratto fino al 30 giugno 2024. I rapporti con la Sampdoria sono buoni, però sappiamo tutti come trattare con Ferrero non sia assolutamente facile. Però il Milan potrebbe in qualche modo includere nell'affare qualche giocatore. Il Milan ha qualche esubero quest'anno, abbiamo Conte, abbiamo Caldara e quindi potrebbero essere tutti nomi che potrebbero essere avvicinati, accostati alla Sampdoria. È un giocatore danese, quindi un ruolo importante in attattativa potrebbe averlo anche il capitano, Simon Kier, che potrebbe in qualche modo consigliare la squadra. È un nome nuovo, un nome che piace, che piace allo scouting rosso e nero per ovvie ragioni, ovvero è un giocatore di grande talento, al sicuro avvenire, da costi di contenuti di ingaggio e costi contenuti anche come prezzo di cartellino. È un giocatore che abbiamo seguito noi di rubrica rosso e nera molto nella scorsa stagione, è un giocatore che ci piace, è il classico tuttocampista moderno, è un giocatore abile, è un giocatore che secondo me può regalare veramente un grande futuro al nostro Milan. È un giocatore che anche la Juventus ha seguito, ha chiesto informazioni, la stessa Roma l'ha seguita e ha diversi stimatori, soprattutto in Premier League, perché è un giocatore molto forte fisicamente, anche alto è un 80, è un trequartista che grazie al suo controllo di palla riesce, è riuscito molte volte a mandare in gol i compagni attraverso le sue giocate. Vedremo, è un nome nuovo, è un nome che la dirigenza Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando insieme al Goffri Moncadà e vedremo se potrà essere lui il trequartista del Milan. Chiaro, il Milan ha bisogno di un giocatore più pronto in questo momento probabilmente per sostituire Celanoglu, però il nome di Damsgaard potrebbe essere un nome importante per il prossimo futuro rosso e nero. E come sempre se vi è piaciuto questo video vi chiediamo di mettermi piace, di condividerlo e di iscrivervi al canale YouTube di rubrica rosso e nera.